Ora vi farò vedere una cosina che è veramente interessante, ovvero sia il nodo dell'impiccato. Perché in caso di apocalisse e zombie bisognerà pur fare giustizia a sommaria dei traditori, no? Quindi il nodo dell'impiccato vi servirà come il pane. Vediamo come si fa. Vediamo il nodo dell'impiccato. Il nodo dell'impiccato è così. Si fa avanti, indietro e ritorno. Poi su questi tre capi qui, col capo libero, si fanno sette giri. Sette è un numero tradizionale, quindi non chiedetemi perché sette. Sette perché sette. Probabilmente con sei o con otto funzionano in una stessa maniera identica. Però si fanno sette giri. Quattro, cinque, sei, e sette. E si passa nel cappio, nel cappietto. Quindi da quest'altra parte si scorre. fino a bloccare. E questo è un nodo scorsoio. E questo è il nodo dell'impiccato. Pronto per la giustizia sommaria, in caso di apocalisse zombie, di chi dovesse tradire il gruppo, o spie, e roba simile. Non volete sprecare mica un po' gli atti, vero? Il nodo dell'impiccato in realtà è una curiosità. Comunque, era carino da farvelo vedere. Cari amici del canale, ciao!